Migliori servizi pubblici per tutte le persone. L'obiettivo della manifestazione dell'8 di giugno in Piazza del Popolo. Per avere il diritto alla salute, per avere il diritto all'istruzione, per avere più sicurezza sui luoghi di lavoro, per avere un sistema pubblico che funzioni meglio, c'è bisogno che chi ci lavora abbia dei diritti, non sia precario, abbia uno stipendio adeguato, abbia dei contratti adeguati. C'è bisogno anche che ci lavorino più persone che si investa, meno privatizzazione e più servizio pubblico. La battaglia che facciamo è una battaglia quindi per tutto il Paese. Uniamo la lotta per i diritti nel lavoro alla qualità dei servizi che debbano essere garantiti a tutte le persone. Venite in Piazza del Popolo a Roma perché abbiamo bisogno di cambiare tante cose.